Questa mostra nasce da un'idea, da un incontro tra me, Fabio Agrifoglio e Gianni Forcolini. Fabio Agrifoglio ci ha invitato a vedere le opere della Fondazione Maria Agrifoglio e in quel momento mi sono ritrovata a scoprire opere realizzate con materiali particolari e illuminate con la luce di wood. Da lì è partita l'idea di poter fare una mostra su questo tema. Stiamo invitando dei caposcuola ma abbiamo anche deciso di unire delle persone più giovani e che si sono dimostrate entusiasti a poter realizzare per la prima volta un'opera usando questa tecnologia. È stato un lavoro piuttosto complesso perché c'è stata la visita dello spazio da parte di ogni artista, la visita da parte nostra dei lavori all'interno degli studi. Abbiamo deciso con Gaetano Corica di fare fotografie e video agli artisti stessi e quindi abbiamo pensato di fare questa esposizione legandola al discorso del terremoto e legandola al progetto Lightquake che è nato nel dicembre del 2016 quando dopo le forti scosse che abbiamo avuto nell'Italia centrale ci siamo trovati di fronte al discorso di come poter dare un segnale, un messaggio attraverso la luce. La fondazione Agrifoglio è nata con nello statuto due obiettivi. Il primo obiettivo è quello di preservare e valorizzare le opere di Maria Agrifoglio. Il secondo obiettivo è quello di fungere da collettore di idee vicine a quelle che erano le idee della sua visione artistica. È chiaro che se gli artisti che sperimentano la luce nera diventano tanti, può esserci una riscoperta storica degli autori che hanno usato la luce nera. Noi sappiamo che se misceliamo due colori, un blu e un giallo, otterremo un verde. Sotto luce ultravioletta, miscelando una sostanza di un colore blu e una di un colore giallo, non sappiamo, non abbiamo la benché minima idea di quale possa essere il risultato finale della miscelazione. Lavorare sotto luce nera ti porta da una parte a espandere questo tentativo di capire cos'è il messaggio e dall'altra a recuperare comunque l'aspetto estetico. La cosa che mi piacerebbe far notare al visitatore è che l'artista quando lavora con la luce nera, quando sperimenta con colori luminescenti e fosforescenti, lavora al limite e al confine della sensibilità umana. Vorrei iniziare con ringraziare i curatori di questa mostra, Gisella Gelini e Fabio Agrifoglio, che mi hanno dato la possibilità di prendere parte a questa interessante esperienza. Personalmente mi sono occupato di due aspetti. Il primo concerne l'allestimento, che è un aspetto fondante di questa esperienza perché le opere di light art, in particolare quelle di black light art, necessitano di condizioni molto particolari perché si possa godere dell'opera in maniera consona. In primo luogo si tratta di opere che necessitano sì di essere illuminate, ma bensì emettono radiazioni luminose. Di conseguenza c'è un doppio registro per quanto riguarda la luce. Un secondo aspetto è che necessitano di condizioni di buio pressoché totali, una situazione che è tutt'altro che comune per uno spazio espositivo. Il mio secondo compito è stato quello di curare il progetto fotografico e video dell'esperienza, per cui ho visitato tutti gli artisti all'interno dei rispettivi atelier e studi e lì loro mi hanno raccontato la propria esperienza. Mi hanno donato una serie di spunti e di stimoli legati al proprio lavoro. Di conseguenza io credo che questa mostra vada visitata su un doppio binario. Un primo momento immersivo nel quale ci si lascia andare nella dimensione onirica, dando spazio alla carica estetica ed espressiva dell'opera. E' un secondo momento in cui invece approfondire il valore di questi artisti, lasciando spazio appunto a queste interviste, a questi contributi video, che vogliono offrire al visitatore ulteriori stimoli di natura personale, intellettuale, di natura artistica. Vogliono arricchire l'esperienza e instillare nuove curiosità nel visitatore. Per cui non mi resta che augurarvi una buona visita. Sono particolarmente lieto, soddisfatto ed entusiasto di portare il mio saluto a questa splendida rassegna che si inserisce in un contesto di iniziative particolarmente ampio che hanno per tema la luce. Un tema particolarmente significativo per questa città che ha dato in Natale ad Alessandro Volta e che con queste rassegne vuole portare all'evidenza pubblica un modo di fare arte particolarmente entusiasmante ed emotivamente coinvolgente. Questo tipo di rassegne sta scoprendo un mondo che per quanto ho avuto modo di ammirare, perché questo è il termine, si colloca in una cronice che si completa tra la scienza, la cultura, l'arte, i colori, la fisica, l'ottica, l'estro. Mi appresto con quest'ultimo pensiero a ribadire quanto sia sostanziale, importante e determinante che le amministrazioni credano in questo tipo di espressione nell'arte in generale, nella cultura in generale, come veicolo di crescita non solo per pochi addetti ai lavori ma che diventino contagiosi. A questo proposito devo ringraziare tutti gli uffici comunali che si sono ben disposti a sostenere in termini concreti e pratici la possibilità di far accedere le persone a delle sale adeguatamente preparate per valorizzare le opere. Dietro ogni artista di valore, secondo me, esiste sempre un lato filosofico, un lato meditativo che poi viene espresso dalle opere. Nel caso di mio padre questo lato filosofico era legato a una concezione quasi orientale, una concezione di energia più simile a quella zen, per esempio energia basata su due forze contrapposte. Lui la chiamava forza fredda, l'altra forza calda, quindi una forza espansiva e una forza contrattiva. Lo scontro di queste due forze naturali porta a un equilibrio. Infatti lui ha sempre cercato un equilibrio sia di forme che di colori all'interno delle sue opere. L'introduzione della luce nera ha aggiunto un livello ulteriore a questa sua concezione. Lo ha costretto prima ad andare a studiare i classici di teoria del colore. Ha cercato sostanzialmente delle risposte alle domande che il fenomeno esperienzale che viveva richiedevano. Le opere che mio padre riteneva più significative credo che fossero quelle che vanno dal 74 al 76. Opere di tipo strettamente geometrico. Però è anche quel periodo nel quale ancora sperimentava e ancora stava cercando di realizzare una sua tavolozza e quindi di avere un controllo completo della miscelazione di colore. Lui è stato contemporaneamente un artista del suo tempo perché il colore e la luce sono tematiche del nostro tempo però con la mente rivolta fuori dal tempo perché l'idea è quella di dimostrare delle cose che nel proprio tempo non sono diciamo note e conosciute. Arte come continua reinvenzione del proprio essere nel mondo. Questo è il punto dell'essere artista. Un artista è artista quando gli succede questo. E quando gli succede questo non esiste più l'età anagrafica. Io ho 3017 anni. Allora la mia femmina antipica che è tipica ha 3000 anni. Il mio puer che vuole scoprire il futuro ha 17 anni. Il mio passato sono le radici di me e quindi nelle radici di me c'è tutto quello che nel passato è esistito. Quindi anche l'astrologia, la cabala, però io sono centrata nel presente e sto correndo verso il mio futuro. Ho riflettuto molto negli ultimi tempi su come si crea il destino di una persona. Una grande differenza la fa la via spirituale perché essere artisti è pericoloso, perché essere artisti è faticoso. E di fatto io dico che appartengo come tipologia di artiste al Tormento e l'Estasi che è il titolo di un bellissimo libro di Irving Stone su Michelangelo. Perché io lotto col quadro. E questa lotta è anche la lotta per permettere al nuovo di accadere. Ed è un po' come lasciarsi andare in un rapporto d'amore. È molto erotica la mia relazione con l'arte. L'artista si diventa, c'è il nucleo originario che ti fa, che è come dice Ilman, il destino. Ma poi si diventa con la pratica costante. Quando sono andata a trovare Guttuso in studio a Roma, quando ho abitato a Roma, gli ho chiesto cosa devo fare per diventare una vera artista. E lui ha detto lavorare tutti i giorni otto ore. Ho sempre amato la natura, mi è piaciuta la roccia, mi piacevano le sabbie, ne ho fatto raccolte e anche poi successivamente delle opere. Mi piaceva la chimica, per cui i trattamenti dei materiali, dei metalli. È come se fosse un'alchimia, un ricordo di chissà quale epoca. Tant'è che lo spazio-tempo mi riguarda anche poco. Non riesco a vederlo in maniera lineare, così come lo presentano sui libri. Lo sento sempre ciclico, circadiano. Questo torna nei miei lavori. Torna perché c'è un'assenza di contemporaneità, se vogliamo, dal punto di vista delle forme. Però si avverte anche il futuro con l'utilizzo di tecnologie come Arduino, l'elettronica, certo tipo di frequenze delle luci. Queste luci che vanno a incidere sui materiali fotosensibili che adopero, sia nella pittura che anche sulle sculture. Mi sento un amante del colore e della forma e soprattutto quando questi possono essere in trasformazione. Quando ci troviamo di fronte a dei colori che variano, andiamo a toccare tutto il ventaglio dei nostri aspetti diurni e notturni, quindi anche onirici. Tutto lo posso collegare a forme che hanno a che vedere con degli archetipi, quindi a dei fossili, a delle armi, a degli organi. Nella stessa opera io posso vederne un aspetto visto al microscopio, ma contemporaneamente le stesse forme viste da una certa lontananza e quando assumono una certa luminosità diventano un cosmo. È un concetto rinascimentale dove l'uomo si vede come media proporzionale tra l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande. Un po' come se qualcuno, al di là dell'opera, ci chiamasse e ci dicesse da che parte vuoi venire? In quale dimensione ti vuoi trovare? Il mio lavoro è a forme irregolari legate alla teoria del caos ordinato, che è quel tipo di geometria legata al concetto di frattale e quindi di analisi di tutti i fenomeni irregolari presenti in natura. Sono sempre stato attratto dalla luce e ho sempre avuto questo rapporto conflittuale con la materia. La luce è una forma di materia intangibile, che però ha anche lei una sua presenza fisica. Quindi rimango all'interno della scultura, anche quando non c'è più una materia fisica da toccare. La definizione di light art è una forma di arte in cui il mezzo coincide con il fine. Nel mio caso io non sono d'accordo e forse questa definizione mi sta un po' stretta, perché è una luce che parla di luce e se il mio strumento è il mio fine io non avrei più nulla da dire. Duchamp diceva che non ci sono risposte perché non ci sono domande. In realtà le domande ci sono, almeno nel mio lavoro vogliono esserci delle domande. A partire dal 2006 ho affiancato a un lavoro di taglio cosmologico, scientifico, un lavoro di analisi sociale. Nell'ambito della mostra Backlight ho portato un'installazione di disegni su carta nera, in cui ho dipinto con vernice luminescente una mia interpretazione della striscia di Gaza vista dall'alto di notte. In questo caso si è andata a sovrapporre la mia tematica spazialista e cosmologica a un tema sociale e politico, quello di questo territorio tormentato da tantissimi anni. Si può dire che io ho passato tutte le correnti dell'arte contemporanea perché ho iniziato con i primi paesaggi impressionisti, ho fatto una serie di espressionista, ho fatto una serie astratta, sono arrivato all'action painting come sperimentazione, quando per caso è nata questa fusione tra le incisioni, che sono il primo registro di queste opere, e il fondo invece cromatico. La figurazione però chiaramente non poteva essere ripresa dalla realtà. Se il linguaggio si può evolvere attraverso un ready made, noi possiamo acquisire un linguaggio personale che non ha più nulla a che fare con la realtà conosciuta. Diventa una realtà puramente artistica. Ciò che supera la nostra esistenza sono gli oggetti, perché gli oggetti hanno un potenziale molto più lungo di esistenza. L'istinto è stato quello di appropriarsene disegnandoli. Nel momento in cui li ho disegnati, il disegno diventava un elemento leggero per poterne acquisire le caratteristiche. Questo ha portato una libertà sempre maggiore, cioè se l'evoluzione della ricerca ti permette di entrare in un mondo personale e soggettivo, non hai più i vincoli con il mondo dell'arte storicizzato, e quindi il ready made è servito come passaggio, non come meta finale. La parte che mi ha liberato dalla fatica in un certo senso di imitare la realtà, e quindi nel mio caso il ready made, cioè l'oggetto che era già stato composto, è l'incisione. L'acido corrode la lastra di rame o di zinco che sia, in modo da ottenere quella similitudine con l'oggetto vissuto che ha i suoi segni all'interno. Il linguaggio è una parte della ricerca segnica. La ricerca concettuale e l'astrazione della forma si fondono assieme in queste opere attraverso un nuovo linguaggio che è quello dell'arte fluorescente. Quindi la fluorescenza ha permesso di andare oltre la figurazione tradizionale. Il viaggio è quello che ispira quotidianamente il mio fare. Mi soffermo tantissimo ad osservare il mutamento del paesaggio. Mi colpisce un colore, mi colpisce una forma, mi colpisce un cielo, soprattutto i cieli. Un'immersione nel blu. E tantissimi dei miei paesaggi, delle mie opere, sono totalmente blu. Per la teoria di Itten, il blu è un colore freddo, ma per l'emozione personale di ognuno di noi potrebbe anche non essere freddo. Io di solito nel blu mescolo il rosso. L'abbinamento del colore è spontaneo. I miei colori mi rappresentano nelle mie diverse fasi di vita. Se mi guardo all'indietro, utilizzavo molto le terre, i colori caldi, i barroni, inserendoci dei gialli, degli arancioni e dei verdi. Poi questo tipo di ricerca, questo tipo di tavolozza è andata scomparendo. Ho avuto la necessità di cambiare la tecnica, di non avere più il colore corposo e spesso, ma la mia ricerca è andata sempre più verso la trasparenza. L'opera che sto preparando ora per la mostra Black Light è un'opera anche essa specifica, di grande dimensione, realizzata su tela. Il messaggio che io voglio dare attraverso quest'opera è un'emozione molto forte che io ho vissuto pochi mesi fa in un paesaggio a me molto caro. Le Marche, ho vissuto la scossa trovandomi su quel territorio, l'ho sentita, mi è entrata nelle vene, nel sangue, nel cuore, nel cervello. Quindi ho pensato di rappresentare un paesaggio con i colori che vivo oggi, con quella che io sono oggi. Mi chiamo Oglava, ho nato e vivi in Mosca. Ho ho pensato, ho pensato, disegno e sottotitore di design. Ho pensato di un'emozione. Ho pensato di un'emozione, è un'emozione di un'emozione. Ho pensato di questo stile, perché è un'emozione molto attraverso il mondo di un'emozione e che ha bisogno di una grande libertà di un'emozione. C'è un'illuminofono con un'illuminofono con un'illuminofono con un'illuminofono. C'è un'illuminofono con un'illuminofono. ... 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